Ehi Brian, vuoi piazzare una scommessa? Domani sera su Celebrità sul Ring do Carol Channing vincente su Tyson in tre round. Carol Channing? Terresti Carol Channing, l'attrice vincente su Mike Tyson e il pugile. Metti 50 dollari su Tyson. Non ci posso credere. Ho appena perso 50 dollari. Sono io, Tok Tok. Allora, ce li hai i miei soldini? Eh? Oh sì, te li darò presto. Sì, beh, eccoti un consiglio. Procurati i soldi per domani e non ci sarà nessun problema. Eh? Sì, 24 ore. Perché? Cosa succede tra 24 ore? Eh, non lo so, non sono un indovino amico. Dico solo che magari è meglio per tutti se domani hai i soldi, ok? Sì, vedrò che posso fare, ok? Bene, bene, grandioso. Ah, per il resto come va? Bene. Ok, fantastico, ci si vede. Non dimenticare. No, che non dimentichi. Stewie. Ah, ciao. Ehi là. Allora, sono passate 24 ore, ce li hai i soldi? Oh, dammi fino a venerdì. Per allora li avrò di sicuro. Oh, oh, che buffo. Avrei giurato d'averti detto che erano per oggi. Sì, ma non li ho, mi dispiace. Oh, beh, ok, allora... Mmm, buono questo succo. Fa male? Fa male? Ma che diavolo? Sì, non è una bella sensazione, vero? Non lo è? Sì, è questo che succede. Oh, mio Dio. Questo è quello che succede. Dove sono i soldi? Voglio i miei soldi, capito? Dove sono i miei soldi? Dove sono i soldi? Allora, si piace così, eh? È una bella sensazione? Dove sono i miei soldi? Dove sono i miei soldi? Dino tempo fino alle 5. Mi hai sentito? Hai fino alle 5 di oggi pomeriggio. Tu sei uno psicopatico. Datti una ripulita. Che cosa diavolo ti è successo? Io sono caduto per le scale. Oh, dovresti fare più attenzione. Buongiorno. Buongiorno a lei, signore. Ehi, aspetta un attimo. Che diavolo? Comincio a stufarmi di essere preso in giro da te. Sì? Oh, mio Dio. Sì. Comincio proprio a stancarmi. Dove sono i miei soldi? Dove sono i miei soldi? Basta. I soldi per comprare un paio di baffi finti ce li hai, eh? Già, quanto li hai pagati quei baffi, eh? 2,99. Ascolta, devi solo darmi un po' di tempo. Non prendermi per i fondelli, amico. Non prendermi per i fondelli. Voglio i miei soldi? Voglio i miei soldi adesso? Stewie, ascolta, tutto questo è folle. Oh, mio Dio. E va bene, andiamo in banca. Allora, siamo pari ora, giusto? Pronti a cominciare una nuova vita in Inghilterra? Io ho avuto i miei soldi, le tue ferite sono guarite. Vogliamo mettere una bella pietra sopra il passato? Mi hai sparato a tutte e due le ginocchia e poi mi hai dato fuoco. Bastardo. Ok, d'accordo, facciamo così. Ti concedo una vendetta a piacere contro di me. Ok, però non te lo dico quando sarà. Ah, ragazzi, sarà divertente. Quando arriverà la tua vendetta, Brian? Dimmi soltanto quando arriverà. Fa qualcosa, qualsiasi cosa. Guarda, ecco, lo faccio io. Lo faccio io prima. Guarda, 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 faccio anche di pe... Guarda che molle mi sono fatto. Siamo pari adesso, vero? Peter, è vero. Spett' in questa cup instead. Oh, there's my apple juice. Stewie, wait, non... Where's my money? You gonna give me more money? Ah, never mind. Ah, 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 ah.